Netflixanti M.T. Ayers, oggi si parla del febbraio di Netflix con i suoi arrivi e consigli di visione. Vedete di vedere tutto subito, altrimenti pioggia di spoiler. Partiamo! Come sempre, prima di passare alle novità, è il caso di fare un brevissimo recap su quanto ho visto con consigli e sconsigli. Prima fra tutti, il numero 1 di Visioni per diversi giorni, forse pure Settimane Manifest, serie originariamente di NBC che approda sulla grande N come fosse una novità. In realtà è una brutta copia di Lost con nulla di innovativo e una recitazione che non mi ha fatto andare oltre la prima puntata. E dire che l'idea era carina, un volo parte e arriva a destinazione però 5 anni dopo, senza che nessuno a bordo abbia percepito qualcosa. Purtroppo la buttano subito sulle vocine che ti guidano e una narrazione da soppopera. Per me è no. Un sì convinto invece lo dedico alla serie For Life, originariamente di ABC, serie a metà tra Prison Break e Suits. Abbiamo quindi un detenuto ingiustamente condannato che diventa avvocato e si vuole scagionare. Ben realizzata con un ritmo incalzante che affronta diversi argomenti di spessore e non semplici. Passando adesso ad un evitare come la peste, il fortunato è un film Mother Android. Una roba, ma una roba che già dopo 5 minuti ti si è già rotto le balle. Per la pochezza di spessore sia dei personaggi che dei dialoghi che della storia. Un film citofonato che avevo messo in lista lo scorso mese, di cui faccio mea culpa. Meglio fissare fuori dalla finestra. Mi riprendo e consiglio però la serie poliziesca danese L'Uomo delle Castagne. Una caccia ad un killer seriale che sembra avere uno scopo di vendetta. Serie autoconclusiva che dimostra che sia inutile fare stagioni su stagioni della stessa roba. Una stagione fatta bene rimane sicuramente più impressa e da soddisfazione. In ultimo vi parlo di Bruised, film interpretato e diretto da Al Berry. Indubbiamente un bel film di spessore, ma non mi ha preso così tanto. Una vita bruciata di una lottatrice che prova, come ultima spiaggia, di rimettersi in carreggiata anche grazie ad un figlio che aveva abbandonato. Ma adesso via con le novità in arrivo. Visto che la giornata della memoria è il 27 gennaio, Netflix ha deciso di programmare per il primo febbraio un film su Anne Frank, la mia migliore amica. Un film che si vuole focalizzare nel raccontare l'amicizia tra la protagonista del famoso diario e Anna Groslar, dal periodo dell'occupazione nazista fino a ritrovarsi al campo di concentramento di Bergen-Belsen. Penso che l'unica altra cosa da aggiungere sia di guardarlo emotivamente ben disposti. Ma via che cambio genere con l'arrivo della seconda stagione di Dion, sempre il primo febbraio. Serie incentrata sul rapporto madre-figlio che affrontano la manifestazione di superpoteri nel piccolo Dion e quindi l'arrivo di supercattivi. Era sempre in lista ma non l'ho ancora vista, quindi ditemi anche voi se può valere o meno. Continuando a parlare di serie, arriva la settima stagione di Brooklyn Nine-Nine, disponibile dal 6 febbraio. Serie e commedia incredibilmente profonda e ben fatta, che una volta fatto play vi rapirà e catapulterà nella vita di questo dipartimento sgangherato della polizia di Brooklyn. Da vedere assolutamente. Per venire in conto agli amanti dell'animazione e dei miti giapponesi, passiamo al mese degli dei in arrivo l'8 febbraio. Storia incentrata su una ragazzina che un anno prima ha perso la madre e non riesce a farsene, giustamente, una ragione. Scopre quindi il raduno degli dei Aizumo e decide quindi di fuggire per andare da loro. Viaggio assieme ad animali parlanti, Oni, e con un padre preoccupato che deve ritrovarla. Insomma, un tuffo nel Giappone. Rotogliamo ad un altro verso l'horror tedesco con il film The Privilege in uscita il 9 febbraio. Siamo in una scuola per super ricchi e privilegiati, tra feste e divertimenti, però si annidano fatti sovrannaturali che i nostri protagonisti non potranno che indagare. Andranno quindi a scoprire un complotto e cosa faranno? A voi la risposta se deciderete di affrontare paura e raccapriccio, altrimenti saltate nello stato francese a fianco e gustatevi questo Big Bug. Disponibile dall'11 febbraio, siamo in un prossimo futuro, circa un quarto di secolo avanti nel tempo. E quello che avremo saranno case e persone in stile USA anni 50-60, pieni di androidi e strumenti tecnologici per servire l'uomo. Ma cosa succede? Si iniziano a verificare dei bug, ma siamo sicuri siano proprio dei bug? Commedia di fantascienza che spero mi regali qualche ora di relax. Siamo a febbraio, giusto? Quindi ci tocca la festa di San Valentino, quella di ogni cretino che... vabbè, vabbè. Quindi partiamo da un film molto positivo, il truffatore di Tinder disponibile dal 2 febbraio. Si tratta di una storia adattata da fatti reali, in cui una donna fa un match positivo con un uomo dal profilo per lei incredibile. Bello, ricco, imprenditore, ovviamente, però non è tutto quello che luccica e lei si risveglia truffata. Non demorde e recuperando altre vittime si coalizzano tutte per consegnarlo alla giustizia. Ma quindi che... ci devo scrivere su Tinder? Forse è meglio passare e finché vita non ci separi. In arrivo il 10 febbraio, serie portoghese che narra le vicende di una famiglia le cui tre generazioni vivono sotto lo stesso tetto. Una discreta villa. E come attività di famiglia organizzano matrimoni. Una serie commedia romantica che dal trailer mi ha incuriosito. Saltando però in Corea, l'11 febbraio uscirà Amore e Guinzagli, film che si focalizza sul rapporto tra due colleghi quando lei scopre le pratiche che piacciono a lui. Probabilmente molto più consigliato questo di 50 sfumature di qualche cosa. Poi deriva da una webtoon coreana, quindi avrà parecchi momenti divertenti. Passando invece a qualcosa di attuale, Inventing Anna, previsto sempre per l'11, parla di come un'ereditiera tedesca abbia creato chi sia tramite i social, sfruttando la sua dote di adescatrice. Per una grande truffa. Solo una giornalista però inizialmente cerca di vederci chiaro. Non ha nulla a che fare, ma mi è tornato alla mente il nostro Gianluca Vacchi. Ma rimanendo però nel nostro bel paese, ecco l'arrivo quasi a sorpresa di fedeltà proprio il 14 febbraio. Serie con al centro proprio il problema della fedeltà di coppia divisa tra Milano e Rimini. Problemi di rapporto personali e di chi si è veramente, ma soprattutto quello che si vuole e a cui si è rinunciato. Quindi domande classiche di vita di coppia. Ma tornando in Corea, vi siete mai chiesti cosa potrebbe succedere tra uomo e software? I. Love. You. Film in arrivo il 15 febbraio prova a rispondere a questa domanda immaginandosi un software senziente che si innamora di una donna e che decide quindi di prendere a prestito un corpo per vivere la sua storia d'amore. Me lo spiegate perché sempre dalla Corea del Sud arrivano cose che almeno sulla carta sono intriganti? Passato il periodo di San Valentino, torniamo in chiareggiata con altre uscite e quindi al giorno della memoria. Con questo, perdonaci i nostri peccati. In arrivo il 17 febbraio. Si tratta di un film, o meglio un cortometraggio, incentrato su di un ragazzo con una menomazione ad una mano che nella Germania nazista decide di compiere una scelta audace. Dal breve trailer e dall'argomento, oltre che per la breve durata, direi che si merita una visione. Saltando invece in Asia ci fermiamo a Bangkok per una rapida vendetta. Dal 17 febbraio, infatti, sarà disponibile Fistful of Vengeance, con protagonista il solito ragazzo che mena come un fabbro e deve vendicarsi per trotti subiti con i malavitosi locali. Questo lo porterà a scontrarsi con un supervillain dai superpoteri. Dal trailer sembra ben fatto e le arti marziali hanno sempre un loro fascino. Ma un altro genere ha sempre fascino ed è l'horror. In questo caso, Netflix ha deciso di fare un sequel di Non aprite quella porta, che arriverà il 18 febbraio. Si tratta di un film diretto seguito dell'horror originale del 73, e che si immagina un gruppo di giovani imprenditori influencer che vogliono mettere mano sulla cittadina di Harlow. Questo però disturba faccia di cuoio. La cosa più inquietante di questo film è sicuramente come mai si vada continuamente a tirare fuori sequel di dubbio gusto. Ma magari questa è la volta buona. Dai, dai, dai! E quindi, in questo mese non può che mancare l'ibrido cartone animato videogioco. E la scelta cade su Cuphead Show, programmato per il 18 febbraio. Fortunatissimo videogioco dai disegni anni 30. In questa versione per la TV avrà storie assurde e divertenti, perfettamente a tema col videogioco. E quindi, a sua volta, con quelle storiche animazioni di quasi 100 anni fa. Con grande attesa, poi sempre il 18 febbraio, arriverà la seconda stagione dell'irriverente Space Force, presa in giro di Trump e della sua decisione di creare appunto un corpo militare spaziale. Serie con Steve Carell che ha strappato più di una risata, ma che ora arriva fuori tempo massimo. Il vero botto, però, lo fa l'arrivo di una sola ed unica serie, Vikings Valhalla, disponibile dal 25 febbraio. È una serie spin-off dell'originale serie TV, sui Norreni, che ha spopolato anni fa. Da quelle storie, però, si andrà avanti ben 100 anni. Con queste premesse, è un cast tutto nuovo, oltre che un nuovo showrunner. Vedremo se la serie riuscirà ad avere altrettanto successo della precedente, mantenendo, però, una propria personalità. Questo mese, tante le uscite che ho deciso di segnalarvi, nella speranza di darvi spunti di visioni interessanti. Ricordatevi di mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Non dimenticatevi di commentare per dirmi se mi sono dimenticato qualcosa legato a Netflix, o dirmi se la vostra sulle mie scelte. Infine, mandate questo video a tutti i vostri amici e conoscenti, se volete toglierveli di torno per un po' facendogli fare fondo all'abbonamento di Netflix. Magari funziona pure col vostro capo ufficio. Alla prossima, MTIers. Ciao! Grazie a tutti!